Città Sant'Angelo riparte dal turismo e dagli eventi. Assolutamente sì, quest'anno abbiamo voluto puntare soprattutto in visione di quello che è stato l'anno scorso sul turismo di prossimità, facendogli vivere un'esperienza sul nostro territorio con tantissimi servizi che abbiamo attivato quest'anno dall'app City Around che permette al turista di potersi muovere in maniera autonoma sul territorio facendo dei percorsi prestabiliti e dall'altra parte con una possibilità di poter fare tramite delle e-bike un bike tracking con 80 km di sentieri segnalati sul nostro territorio sia su un'app che con cartellonistica. Questa esperienza speriamo che possa essere vissuta dal turista nel miglior modo possibile, così come gli eventi estivi che abbiamo voluto fissare a livello culturale. Quali saranno gli appuntamenti clou dell'estate angolana? Gli appuntamenti partiranno dai tre nomi dei tre big che saranno Giorgio Pasotti, Federico Palmaroli e Corrado Tedeschi con il Dante. Così di contorno ci saranno anche le presentazioni di autori come il premio Campiello Remo Rapino e il di Pietrantonio che oggi è finalista al premio Strega. Anche la dottoressa Musini che è angolana oggi verrà a presentare il suo libro a Città Sant'Angelo. Così come anche eventi culturali come quelli della musica e il Città Sant'Angelo Music Festival che è la nostra punta di diamante perché con l'opera di Donizetti in tre giorni riuscirà a rendere Città Sant'Angelo fulcro dell'opera a livello abruzzese.